Una struttura che opera ampiamente al di sotto delle proprie potenzialità e questo è il succo della denuncia della CGL sull'ospedale da Procida di Salerno. Il sindacato lancia l'allarme sulla dotazione di personale della struttura, considerata insufficiente, sui posti letto e sulla qualità dell'offerta sanitaria. Si, in effetti lo presentano come polo di eccellenza. Ormai sono cinque anni dal primo atto aziendale che lo pone come tale polo di eccellenza con una riabilitazione pubblica di alto livello, ma in realtà fino ad ora, nonostante quanto è scritto sull'atto, sono solo promesse, incominciando dalla depa operazione del personale, perché anziché integrare rispetto ai posti letto originali c'è una posizione di stallo sia per la riabilitazione per quanto riguarda gli altri reparti e i servizi. In effetti apparentemente a chi viene sembra che l'attività del da Procida sia in regressione rispetto a quella che è la realizzazione poi dell'ospedale riabilitativo. La riabilitazione stessa, se parliamo proprio del reparto riabilitativo, in realtà attualmente aveva 12 posti letto più 4 di cardiologia, di riabilitazione cardiologica. All'origine erano 24 i posti letto. Per carenza di personale si sono dovuti man mano ridurre. Ogni volta che hanno fatto un atto aziendale in cui l'azienda ospedaliera e la regione presentava il da Procida come ospedale di eccellenza pubblica, in realtà sono incominciati a diminuire i posti letto.